Marino Cernicchi è attore, regista, sceneggiatore, diciamo veramente factotum di questa ennesima impresa che però vi porterà un po' in basso. Prima di tutto vorrei ringraziare i telegrupi che ci dà ogni anno l'opportunità di promuovere questo evento, poi vorrei ringraziare tutto il gruppo teatrale a partire dalla Presidente ma anche tutte le persone che non si vedono ma che lavorano dietro in questo momento mentre ci sono qui a promuovere la nostra commedia, ci sono scenografi, falegnami che si stanno adoperando affinché lo spettacolo possa riuscire bene. Questa commedia è molto bella, io direi una delle più divertenti che abbiamo in qualche modo scritto insieme con Stefano Tosti e anche con la Serena e riporta la storia dei due muratori eugubini negli anni 50, 56 per l'esattezza dove queste famiglie tra la miseria e tante altre cose scoprono comunque le prime televisioni, scoprono comunque diverse cose. Ecco, sì, andiamo, torniamo purtroppo molto in basso però anche questa volta alla fine il Padre Eterno ci mette una pezza via. I giovani d'oggi forse non si rendono conto di come vivono i loro coetanei oppure i loro nonni o i bisnonni in quegli anni, la miseria ci portava via, tra l'altro noi siamo due casengoli e che se la passano veramente male. Il nostro obiettivo è quello di tornare indietro nel tempo, siamo tornati all'inizio del Novecento, siamo tornati negli anni Sessanta, qualcuno ne ambientiamo anche ai giorni d'oggi ma è quello di far scoprire ai giovani, come diceva la Presidente, il modo di vivere e soprattutto anche un po' il modo di parlare il dialetto dell'epoca, ecco così, perché magari qualche giovane di oggi certe parole nemmeno le sa. Anche quest'anno torna insieme alla Commedia il premio Ilenia Cernicchi, questo premio viene assegnato ogni anno ad una persona di Gubbio che si sia distinta in uno dei settori in cui anche Ilenia si dilettava e sono appunto lo spettacolo, il giornalismo, il volontariato, lo sport. Quest'anno la scelta ricadrà nell'area dello spettacolo, quindi avremo un artista che verrà premiato la sera del sabato 1 marzo, quindi aspettiamo un numeroso pubblico anche per questo motivo, insomma saremo contenti di festeggiare questa persona.